Si prepara a lasciare la parrocchia di Sant'Alberto Magno per diventare l'arciprete di San Cataldo, padre Alessandro Giambra. Dal primo di settembre infatti comincerà il suo nuovo incarico nella chiesa madre sancataldese. Proprio nella stessa giornata alle 18 ci sarà la concelebrazione eucaristica preseduta dal Vescovo. In questi 14 mesi è stata un'anamnesis di tutta quella che è stata la mia infanzia, la mia adolescenza fino a 20 anni, fino a quando poi sono entrato in seminario, ma poi ho fatto da seminarista l'esperienza a Marianopoli, quindi mi hanno cresciuto loro. E quindi è stato un ritorno, Alessi torna a casa. Tante cose, tante esperienze, tanti incontri. Abbiamo cercato di costruire soprattutto relazioni perché la pandemia in più di distruggere tante famiglie, l'economia ha distrutto soprattutto i rapporti umani. E in questo anno io ho visitato tutte le famiglie con la benedizione, ho scoperto una sancataldo, ahimè, diversa. Ne sono pochissimi giovani che rimangono e quelli che rimangono aspirano ad andare lontano perché non c'è un futuro. E ho voluto, perché Santa Maria di Nazareth è, chiamiamolo, l'oratorio di San Alberto Magno, con tutti questi locali, far rivivere, ripopolare di ragazzi che giocano qui nel cortile, nei saloni, ambi che ci sono. Le messe si sono proprio riempite, grazie a Dio, perché c'è stato questo ritorno dopo la pandemia. Ora vado alla chiesa madre, la chiesa madre è già il nome che lo dice, è la madre di tutte le chiese di San Gatalto, per diventare centro di comunione, di coordinamento, di lavoro insieme con i miei confratelli. Quindi io vado là in punta di piedi, nel rispetto di quello che di bello e di buono già il mio predecessore ha lasciato, mettendomi in ascolto di quella che sarà la realtà bella della chiesa madre nel suo splendore. Non si tratta dell'unico cambiamento per la diocesi nissena. A inizio giugno, infatti, il vescovo Monsignor Mario Russotto aveva stabilito le nuove nomine per i sacerdoti della diocesi nissena per l'appunto. Tra gli spostamenti, ad esempio, c'è quello di Padre Marco Cosentino, che dalla parrocchia di San Giuseppe a Caltanissetta arriverà a Villa Alba come erciprete e parroco della chiesa matrice.